Una maria 40, siete partiti molto bene. Sì, abbiamo vinto 3-0 e questo è l'importante, ancora possiamo far meglio secondo me, possiamo giocare decisamente meglio, però l'importante era prendere questa vittoria e andare a casa, ora abbiamo quattro giorni per allenarci, per migliorare, dobbiamo crescere, possiamo crescere ancora tanto secondo me. Ovviamente dovete crescere, venivate anche voi da problemi di infortuni, tanti problemi anche per voi in questa stagione, ma il gruppo si è ricompattato, grande presenza a muro, una buona partita. Sì, il gruppo è ritornato, abbiamo avuto diversi problemi, tra influenza, spalle, insomma problemi vari dopo una stagione così intensa, per cui siamo ritornate e andiamo per questa strada, credo sia quella giusta. Possibilità di chiudere questa storia e pensare alla semifinale già dal prossimo match? Dobbiamo proprio far questo, perché un giorno di riposo, un giorno di lavoro per noi è importantissimo, visto che non abbiamo potuto farlo tanto durante la stagione. Per cui ora si ritorna a casa e niente, dobbiamo chiudere il prima possibile, perché sappiamo che è una squadra molto aggressiva, che non si darà per vinta, per cui non sarà facile, ma noi siamo pronti a combattere. Laki, pronti a combattere, sì l'avete dimostrato, perfetto a muro, ottima la pressione al servizio, poi per quanto ti riguarda, precisissima, l'imposto due, tenuti molti palloni, con delle ottime efficienze in attacco, ma come mai non siete andate a giocare a Modena con il sestetto base? No, abbiamo avuto diversi infortuni, tra cui Piccinini, prima influenza, poi di Julio ha avuto l'influenza, poi abbiamo diverse... di Julio ancora a spalla, insomma abbiamo avuto diversi... Non può salvaguardare anche il gruppo per in previsione delle partite importanti? No, non salvaguardare il gruppo, abbiamo bisogno di recuperare un po', sì, di recuperare un po' tutto da questi problemi. Ho detto, la stagione è stata intensa, come anche per tutte le altre squadre, per cui per noi fra è indispensabile, siamo tutti importanti, per cui bisognava recuperare da questi piccoli problemi per essere qui pronte per combattere, perché ora è un'altra storia. Assolutamente, partita dopo partita, essere pronte comunque a recuperare già dal viaggio di questa sera, allenarsi e poi, grande mentalità per cercare ovviamente, per quanto vi riguarda, di chiudere la partita di casa. Arrivate le statistiche, alla fine avete chiuso con 11 muri contro i 6, 37% in attacco, 26% per loro e comunque, chiara 1, portata a chi.